è bello, è bello proprio è bello avergli mostrato pure questo lato del back se fosse stato interessato magari a Daniele si è fottuto l'unico accendino della casa, vero? non solo non se l'è fottuto ma ne ha aggiunto un altro io uomo di poca fede non vedo l'ora di vederlo a Daniele quando sono arrivato ero veramente arrabbiato proprio perché ero insonne, ha tardato l'aereo quindi sono andato a dormire a mezzogiorno e mezza perché figurati se partendo a Catania alle 7 avrei sprecato la serata con i miei fratelli no, non l'ho fatta insonne, ho fatto notte bianca sono arrivato a casa volevo coricarmi nel letto di Ciccio anche se Ciccio se n'è andato qua lo chiameremo per sempre letto di Ciccio e ho trovato Daniele Sjomox dormire e io ho detto ma che ci fai qua? e lui è sai com'è? è l'unico posto disponibile perché dobbiamo fare la disinfestazione che Daniele ha fissato che ci sono ancora dei cimici in casa quando cambierai stanza ma è una barzelletta flippo perché Marco doveva portare il furgone con cui doveva portare via le cose di Ciccio però poi ha avuto dei problemi quindi non l'ha potuto più fare poi ha avuto altri problemi quindi teoricamente il 12 portano via le cose e poi si dovrebbe fare la disinfestazione dopo se riescono i Merrino a portare via le loro cose che è da un po' che questa cosa si protrae quindi dopo bisogna fare la disinfestazione dopo la disinfestazione sposto il letto tipo tempo l'annetta e cambi camera buttana della maratona brother buttana della maratona anche perché io devo fare devo fare la maratona quindi vediamo è tutto una cosa che dipende dai Merrino buttana della maratona dipende dai Merrino che non sono proprio non sono stati proprio puntuali però allo stesso tempo Marco ha smesso di pagare l'affitto fra due giorni quindi lui in realtà è ancora in tempo Ciccio l'ha pagata fino a praticamente inizio estate perché ha dovuto pagare i tre mesi quindi in realtà hanno tutto il diritto di procrastinare comunque Daniele è tutto imparanoiato perché mi ha chiamato mi ha detto dobbiamo fare la disinfestazione perché ho parlato con la disinfestazione non sembrava nemmeno lui ho parlato con la disinfestazione si deve fare per forza perché non posso avere dubbio che ci siano le cimici in casa e io gli dico ma ci sta ovviamente però questa sicurezza che ci siano ma a livello che non ha dormito in camera di Marco dopo che l'ha tanta cognata l'ho trovato a dormire in camera di Ciccio capito è completamente pazzo per ste porcate cimici gli hanno mangiato il cervello però dico ha anche ragione perché magari le cimici ci sono però non le avremmo potute controllare queste cimici cioè con questo con questa paranoia che c'ha non si controlla non si lui si svegliava con le cimici che lo mordevano quando c'erano dopo che ha buttato il suo materasso questa cosa del sangue non c'era però è responsabile chiamare la disinfestazione disinfestare tutte le stanze per esempio anche questa che io sono sicuro che non ci siano perché vi pare che non ho controllato come un paranoia come un imparanoiato tutto il letto per vedere se uscivano non ci sono qua c'erano soltanto da Daniele certo poi buttana della Marco Marco e Daniele che stanno stanno sospostando il materasso verso la cosa verso l'uscita accanto all'appendiabiti lo posano perché Marco deve fare la portata di foto e se se sono saltellate mentre mentre faceva la portata di foto nell'appendiabiti Antonio grazie per i cento Daniele fa bene a non fidarsi palese che le porti tu c'è la peste lì tutto per colpa tua Mario chiaramente la colpa se veramente si deve parlare di colpa quando in realtà è un termine sbagliato è di Daniele l'epicentro delle cimici è l'unica prova che le cimici siano in questa casa c'era dalla stanza di Daniele quindi non lo so poi Marco dice il live è perché tu non lavi le lenzuola ma non cagare il cazzo che sappiamo tutti quanto abbiamo fatto schifo uno a turno a testa gli dice delle lenzuola ognuno sa perché si generano certe cose comunque a quanto pare non c'è stato un controllo delle cimici in quel diopo chiaramente